La storia della farmacia nasce quasi 50 anni fa. L'apertura risale al 1971 quando il Comune di Legnano identificò questa come una sede importante per svolgere un servizio farmaceutico per la cittadinanza. Nel 2004 io e la dottoressa Pino abbiamo rilevato la sede e abbiamo mantenuto la mission di presidio sanitario. Quindi non solo un luogo dove acquistare un prodotto ma dove avere consigli per il corretto uso dei farmaci e su come affrontare al meglio le problematiche legate alla salute. La nostra farmacia ha subito recentemente un cambio di immagine che non è solo un cambio di immagine strutturale ma è soprattutto un cambiamento nel modo di porci nei confronti dei clienti. Quello che vogliamo fare è proporci come guida nel cammino della salute del cliente e questo lo vogliamo fare con la presa in carico del paziente. Ciò vuol dire assisterlo non solo nella cura ma anche nella prevenzione e tutto questo lo vogliamo fare organizzando delle campagne di educazione sanitaria che realizzeremo o in farmacia con degli eventi e delle serate oppure in ambiti diversi da quelli in cui la farmacia è abituata ad operare come per esempio le scuole. Siamo in via Canazza 8 a Legnano, seguiteci sulle nostre pagine social. Ti aspettiamo!